Siamo in prossimità del picco stagionale dell'influenza. O meglio, questa è la previsione di massima secondo i medici, visto che il picco è una stima valutabile soltanto successivamente a un certificato monitoraggio di decrescita di casi. Casi che invece finora sono soltanto saliti e che secondo le rilevazioni hanno messo a letto ben 162.000 marchigiani con la nostra regione che registra un'incidenza sopra la media nazionale, ovvero 20 casi ogni 1.000 assistiti contro i 17 del panorama nazionale. I bambini fra 0 e 4 anni sono la fascia anagrafica che ne soffre di più, 46 casi ogni 1.000, congestionando di lavoro pediatri e aumentando accessi ai pronti soccorso. Picco o meno si dovrà convivere col virus influenzale almeno fino a febbraio. La vaccinazione resta una prassi ancora valida e finora a sottoporsi a vaccino antinfluenzale sono stati 204.000 marchigiani. Meno di 50.000 invece quelli che in quest'autunno-inverno hanno deciso di sottoporsi al vaccino anticovid.